Salve e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jack Sanslight e quest'oggi siamo in un video notizie da dare in pasto all'algoritmo di YouTube. Non sono riuscito a montare il video e dato che l'algoritmo di YouTube richiede costanza, eccoci qua. Già che ci sono, vi aggiorno su un paio di progetti, così che almeno stiamo a posto. Per tenervi intrattenuti, con argomenti gormitici, ho caricato tutti i magazine che posseggo in un link che ho messo in descrizione. Se avete un altro sito dove caricarli, fatelo pure, tanto non sono cose di mia proprietà. Sono in italiano, per gli sfortunati che stanno leggendo i sottotitoli qui sotto. Eccoli, sottotitoli qui sotto. Mi dispiace. In caso andate nel gruppo Discord, spammino, lo metto in descrizione. E nel gruppo Discord ci sono le scan, tra virgolette scan, con i sottotitoli in inglese fatti da un membro del gruppo. Fino a più o meno il volume 20. I volumi che ho caricato sono Dall'1 al 18 è escluso il 14, cioè dalla prima serie alla Final Evolution. E inoltre abbiamo il 20, il 21, il 25, il 30, il 31, il 34 e il 2 della seconda versione del magazine. Non so perché hanno fatto una seconda versione del magazine, il periodo più o meno era Titanium. Non mi chiedete perché, comunque è semplicemente Clisi Supremo come sempre. Se avete gli altri, ditemelo nei commenti, che semmai me li mandate o troviamo questa maledetta piattaforma dove caricarli tutti. Io consiglio la wiki. Ma adesso non mi va di caricarli, perché sono pigro. E quindi per i magazine è questo. Ho caricato soltanto la parte del fumetto e non altri approfondimenti. Forse quelli li carico in futuro se proprio non c'è nessuno. Comunque, ripeto, se c'è qualcuno che ha questi magazine che non sono stati segnati, troviamo un modo per caricarli online. Perché è indecente il fatto che non si trovino. Seconda cosa. Stiamo arrivando ai 300 iscritti. So che potrebbe sembrare un numero insulso per molti di voi. Ma, in onore delle 300 metal cards del suo modo luminescente rilasciate e mai trovate online, eccetto per certe persone che potrebbero averle viste in un blog che è stato cancellato, volevo organizzare una cosa. Cioè che quando arriva ai 300 iscritti, ve lo notifico in qualche modo, faccio un video breve, apposta, non come questo, in cui dico siamo a 300 iscritti. E l'idea era di andare negli account social o il servizio di contatto della Giochi Preziosi, oppure le Gormiti Official, ma non daranno molte risposte, o se qualcuno le trova, le persone ufficiali responsabili della gestione del marketing delle metal cards, per chiedere qualche informazione o qualche foto, o per sapere se ci sono stati annunciati i vincitori, se come funzionava il mezzo di partecipazione al concorso, e cose così. Giusto per avere qualche informazione in più se queste carte esistono veramente, e se ce l'hanno loro oppure no. Io non credo che nessuno abbia messo le foto online, se ce l'avesse ancora, ecco. Ovviamente quando farò il video per i 300 iscritti, metterò più informazioni che posso, e più linkerò gli account giusti, e soprattutto cercate di essere gentili, e non troppo aggressivi. Non vorrei scatenare audio ingiustificato. Voglio solo fare un po' di luce su questa questione, e mi sembra un modo divertente per farlo. Almeno per me. Parliamo dei video che sto facendo. Il motivo per cui oggi il video non è uscito è perché sto lavorando ad un video bello grosso sull'iceberg dei gorniti, che farò uscire in un canale apposta in inglese e in italiano qui su questo canale, e mi sa che verrà bello lungo e incompleto. Quindi è tanto lavoro. Inoltre ho cercato di fare la gormanalisi degli altri gormiti del popolo del canale della seconda serie, scarsi risultati. Nei commenti ditemi il nome per il nuovo canale, perché ancora non ne ho idea. E se sono abbastanza buoni, potrei anche utilizzarlo per questo canale qui, perché Piana di Astreg mi sembra un buon nome, ma secondo me ci starebbe di più per una rubrica, più che per il canale in sé. Ultimo progetto di cui volevo parlarvi, sto cominciando a fare live in cui ragioniamo assieme riguardo agli argomenti dei video. Ho fatto un solo video, una sola live finora, in cui analizzavamo i gormiti della seconda serie del popolo del vulcano. Semmai vi metto il link sul mio canale della piattaforma viola, ma non posso essere sicuro, se continuerò a farli lì. Potrei anche cominciare a farli su YouTube, faccio un po' di test. L'ultima volta mi è sembrato che ci siamo abbastanza divertiti, non mi è sembrato di aver ricevuto una pessima ricezione, quindi da provare ancora, ma sembra promettere bene. Mi piace per sempre quelli che stanno leggendo qui, ma i live saranno principalmente in italiano, perché per quanto possa saper parlare in inglese, non ce la farei a farlo in live parlando di gormiti, ce la farei, non l'ho trovato, ce la faccio a parlare di gormiti per ore, ma anche in inglese, ma sarebbe veramente stancante farlo in inglese. Se mai, se volete venite a fare capolino e se avete delle domande su cui volete che ci ragioniamo su, fatele in inglese, vi risponderò in inglese, tanto spero che tutti gli altri capiranno, comunque anche se parlo in inglese, durante la live risponderò ad una domanda. E niente, dopo questo spammino al canale Twitch, spammino alle pagine del magazine, mi ha richiesto di aiuto su questa questione. Spammino del progetto dei 300 iscritti, li lascio così, intanto cos'altro che devo dire? Uh, face reveal! Non è mai fatto un segreto, cioè, ho sempre detto che sono Jack Sunslide, se cercate Jack Sunslide mi trovate. Is this a spammino dei miei account privati? Sì. Sì. Lo è. Scusate, solo le... È l'una di notte. Ho fatto quest'ora per scannerizzare i magazine, mentre guardavo dei film. Spero non sia stato troppo disturbo aver interrotto il ciclo con un video spammino così, un video riempitivo così, cercherò di farlo il più lungo possibile, perché a YouTube piace, piace tanto. Non so a voi dei sottotitoli, quanto vi piacerà. Vi chiedo scusa. Però, fare i sottotitoli è davvero un casino, io l'odio. Preferisco fare un canale in inglese. forse. Boh, adesso vedo. Ah, ok. Ricordatevi di commentare con il nome del nuovo canale, o un nuovo nome per questo canale. Perché, sì. Piana di astre, che è figo, ma, secondo me possiamo fare di meglio. Secondo me possiamo fare di meglio. L'ho detto. L'ho detto. Possiamo fare di meglio. Possiamo fare di meglio. Da casa mia è tutto. Ci vediamo. Linea l'ostrino.